Interessata all'arte recitativa a 12 anni ha frequentato i corsi di teatro e animazione dello Stabile di Roma. Adolescente è stata allieva del mimo giapponese agli Amanuchi. Conseguito il diploma liceale di maturità classica ha poi conseguito il diploma dell'Accademia d'Arte Drammatica. Apparve per la prima volta in Borotalco, 1982, di Carlo Verdone, ed allora ha interpretato una trentina di pellicole, lasciando sempre più spazio ai lavori teatrali, che le hanno fornito numerosi riconoscimenti internazionali. È stata candidata al Davide di Donatello per Borotalco, 1982. La collaborazione con Carlo Verdone è continuata con la partecipazione a compagni di scuola, 1988. Nella parte di Yolanda, l'amica zitella di Eleonora Giorgi, in Bodyguards, 2000, di Neri Parenti, ha sostenuto il ruolo di una donna dedita al Sadomaso. Ha inoltre interpretato una parte di secondo piano. Apri gli occhi e, sogna, 2002, di Rosario Enrico.